Per contrastare l'escalation di violenza in centro storico, soprattutto ad opera di minori, il Comune sta mettendo in campo diverse iniziative, a partire dalle telecamere, passando per la presenza della Municipale sino a mezzanotte, arrivando ad estendere le zone del Daspo Urbano, ovunque, nel centro storico e nelle frazioni, nei luoghi più sensibili. La Giunta da pochi giorni ha approvato una delibera grazie all'assessore alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella, con le nuove norme, coloro che all'interno del centro saranno protagonisti di comportamenti atti a minare il decoro, l'accessibilità e la fruizione dei luoghi potranno essere sanzionati e allontanati dalla città. Vengono inserite le aree dove insistono fermate di autobus, stazioni ferroviarie, ospedale, cliniche e laboratori medici, aree antistante ai plessi scolastici di ogni ordine e grado, parchi, giardini pubblici e l'area verdi del territorio, il parcheggio pubblico antistante al mercato di piazza d'armi, tutte le piazze della città e delle frazioni. Come amministrazione e anche come partito stiamo cercando di trovare tutte le possibili soluzioni a questi atti che comunque sia continuano e perdurano all'interno del territorio cittadino. Otto unità in più di vigili urbani, estensione dell'orario fino a mezzanotte e soprattutto questa novità, l'ampliamento delle aree sulle quali sarà possibile combinare il daspo urbano. È una misura secondo me importante che va soprattutto a fare un servizio di prevenzione allontanando chi commette dei comportamenti non appropriati alle aree in cui si trova. Per quanto riguarda il personale è già iniziato questo servizio di pattugliamento fino a mezzanotte e la buona notizia è che presto potrete avere più vigili urbani. Sì, assolutamente sì, stiamo aspettando gli atti formali da parte del comune di San Demetrio nei Vestini dal quale abbiamo intenzione di attingere appunto alla graduatoria che loro hanno stilato per prendere altre sette unità di vigili urbani. Mi auguro che sarà fattibile il tutto entro il mese di novembre. Grazie Grazie Grazie